Come è andata la maturità? Bene, sono stato ammesso con 18 punti credito, gli iscritti ho preso 41 o 45 esimi e l'orale non lo so perché ancora, però non sono stato particolarmente brillante all'orale, dove sei sincero, ti dico mi hanno tenuto un'ora e mezza dentro. E tra le domande che ti hai fatto più difficili per l'esame orale quale ci sono? Storia e filosofia. E adesso che hai finito la maturità pensi di continuare, pensi di andare all'università? No. Vuoi buttare completamente nel mondo della musica? No, vediamo, non saprei darti una risposta precisa adesso al momento. Tagna ci chiede, basta sono stanco, ti hai mai venuto in mente di dirlo? Hai mai deciso magari di prenderti una pausa? No, 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 assolutamente. C'è sempre la spontaneità dell'inizio con un po' di consapevolezza in più magari, non convinzione, con un po' di consapevolezza. La domanda più gettonata però di tutte le tue fan è legata al nuovo album, un nuovo CD che probabilmente stai già realizzando. Ci puoi dare qualche anticipazione? Sul nuovo album? Guarda, posso dirvi solamente che domani sarò in sala di incisione a provare le prime voci guida. Tra l'altro ci ho lavorato parecchio da subito dopo Sanremo, ho avuto modo di conoscere in maniera più approfondita alcuni autori, quali Saverio Grandi per esempio, con cui io già avevo collaborato e già avevo avuto a che fare. Però ci siamo sentiti molto spesso e anche lui in questo nuovo album che uscirà più in là, in un futuro prossimo, ha sicuramente degli spazi. Qualche canzone in lingua inglese perché dicono... No, questo non lo so, questo non lo so. Alcuni autori stranieri ci sono. Marti, la piccola Scano per esempio ci chiede invece se in un futuro video potresti fare come hanno fatto i Finlay nel realizzare un video per l'appunto con le tue fan viste come protagoniste, quindi parte integrante del video stesso. Ma non lo so, forse sì. Forse sì, però ancora non bisogna fare le cose tanto per, bisogna avere un'idea ben precisa. Veniamo a una domanda un pochettino pepata, un pochettino personale, che però è anche questa tra le più gettonate. Molte delle tue fan ti chiedono, ti potresti innamorare di una tua fan appunto, di una tua ammiratrice? No. Una domanda molto bella è quella di Monica che dice che effettivamente ormai è diventata totalmente dipendente dalla tua vita. Addirittura dice che il suo marito lamenta tra me e te c'è un altro, c'è Valerio Scano. Oppure i suoi figli lamentano il fatto che loro sappiano, che la madre sappia più di Valerio Scano che della loro vita personale. Allora ci chiediamo, ma effettivamente questo Valerio Scano ha un difetto? Il mio difetto è tante volte essere trasparente, come può essere un mio più grande pregio. Ecco, dico sempre le cose che penso. Veniamo a qualche domanda curiosa. Per esempio ci chiedono, hai in mente di fare un nuovo tatuaggio? Non lo so, non ci sto pensando sinceramente. Ne ho talmente tante, ce ne ho cinque tatuaggi. Nella precedente video intervista con la stampa.t ha avuto molto successo il tuo sogno, il tuo incubo in cui dicevi di temere un taglio di capelli sbagliato. Ma hai mai pensato di farti i capelli più corti in quest'ultimo periodo? Ma io li ho sempre portati corti, sinceramente. Fino al 2007 ho sempre avuto i capelli a spazzola. Non ti cambierebbe nulla? No, è che... boh, non lo so, non so. Per adesso sicuramente rimangono così. Sempre a livello di curiosità, per esempio l'ICA ci chiede se potessi cambiare il tuo nome, se avessi potuto scegliere il tuo nome e quale avessi scelto al posto di Valerio? Alessandro è il nome che ho scelto io per mio fratello. Quindi credo Alessandro, da bambino mi piaceva molto Alessandro, mi piace tuttora, è un nome sportivo. Per concludere questa piacevole chiacchierata ci sono molte tue fan che in questi giorni compiono gli anni. C'è Ioangela per esempio che chiede di fare un augurio per il compleanno di Benedetta, c'è Bebe Scanina che compie 20 anni oggi. Puoi fare magari un piacevole augurio a tutte queste persone che vivono un giorno speciale proprio oggi che è il tuo concerto. E allora tanti auguri! Fin da amici mi ha colpito con la sua voce potentissima. Perché è bravissimo! Mi libera, proprio mi libera l'anima, mi libera sentirlo ascoltare, mi emoziona sempre. Poi è anche simpatico al contrario di quello che dicono. E poi anche perché è sardovo, me, me. Una bellissima persona, un ragazzo molto sincero, mi piace tantissima gente, anche se gli uomini non vogliono ammetterlo. Grazie mille, alla prossima e un bacione a tutti gli utenti e amici di la stampa.it. Per tutte le volte che mi dici basta e basta, più non è, non risponde il flusso delle tue parole al battito del cuore. Per tutte le volte che mi chiedi scusa, scusa, più non è, ma trovi sempre il modo di farmi sembrare il simbolo del male. A fare l'amore in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutto il mondo, in l'universo, in un sistema. A partiamo irraggiungibili!